Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, coda a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia, spostandoci in A11 due chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 49-500 tra Montecatini e Capannori in direzione Pisa. A Firenze in via Mariti, fino al 7 luglio, in vigore restringimenti di carreggiata a tratti con chiusura del varco di collegamento tra le direttrici all'altezza del numero civico 6. Per la circolazione ferroviaria, per un guasto alla linea Rigomagno-Rapolano, i treni percorrenti questa linea potranno subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!